Sto qua, eccomi, ma tocca essere streamer da Twitch, che ho fatto? Ciao Io non bestemmio mai, eh, bella mia, io non bestemmio mai Non bestemmio mai, dico solamente, porco Dio, porca Madonna, tutti gli angeli in colonna ogni tanto Io non bestemmio mai, eh, bella mia, io non bestemmio mai Eh, fai bene a non bestemmiare, è brutto Grazie per il follow, bello Ah, c'è fatti Roberto, c'è fatti cavalli Ah, c'è fatti damastem Cosa piacono a te Cazzo, è Alexa, è diventato questo Ma allora, scusa, oh, sta a ca No, Cristo Chi è morto, chi è morto, chi è morto, zi È morto Zano, davanti È qui, è qui, è qui, davvero C'è infamità Alexa, stop No, vabbè, ancora Alexa, stop Stop, a te troia Madonna Stop Scantati, schiattati Ti stacco la spina Stop Blah Alexa, stop Minchia Sì Grazie, grazie a te WASD A FK Devo fare molte spedizioni in realtà Tocca pezzo lì si possono far vedere ormai Anche se sei Charles Wilson, sei qui Warzonata E si gode Il drop, il drop È bellissimo, se lo fai così lontano è bellissimo Ti vedi piccolissimo Ti fai così Eh no, eh, cos'è questa cosa qua? Cos'è questa cosa qua? E mega graffi Però i corrieri, i corrieri mi avete rotto i coglioni Che Dio, cane, mi arriva una roba graffiata Porco di Dio Basta Dovete trattare meglio i pacchi, pezzi di merda Perché se no questo Dio voglia Ve lo do in bocca Ve lo do in bocca In bocca Spacco tutti i dici Vabbè E non posso cambiare camera in mezzo a tutti e due Io pure volevo Allora, a questo punto vi chiedo Vi chiedo Divano B Vi traslate sul divano A Che è più illuminato E almeno smetto di fare i cambi di scena Ciao Sara Noi ci mutiamo così possiamo dire tutte ria sacco Quando metterete in vendita i cd con le canzoni di Alas No Perché Questa succedendo qua Io sto lavorando però Allora Ma non farli vedere in live Ma siete moriti E non è salsa Siamo in live Ma hai detto che faccieli vedere di live Io ragazzi Io Non Ho capito ma non si vuole Io Non Ti piace Your Name Cazzo si che va il sentimento Bravo Se ti piace Your Name Vai per forza il sentimento Allora Mi ricordo che mi era piaciuto Nel senso Ho detto Boh Sì carino No 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 Non aggiungere altro Andava bene come era prima Però se lo devo paragonare a un film dello studio Ghibli E' una merda Spruzza merda Cosa No Siamo su Discord Eh Ragazzi Hanno messo il pacchetto delle skin Venite 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 su Discord Venite su Discord Per favore Facciamoci una run Facciamoci una run Insieme Per favore Per favore Guardate che skin E' bellissimo Questo pacchetto L'ho messo a cancellarmi in più Dopo caso E' stato 2 euro E' bellissimo E' fantastico Mio padre Eh Sono dentro No C'è solo Elisabetta dentro Ah Don Don Alberto C'è C'è Fede sembri mio padre Quando cerca di andare su siti porno E si dimentica Di cancellare la cronologia Aspetta 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 Questo link Alberto Scusami Ok No gliel'ho mandato Però mi sa che era entrato in un altro Ok ok C'è Elisabetta Dio cane Porco dio E' arrivato a 100 E' arrivato a 100 Avete visto che è arrivato a 100 Ma c'era qualcosa Se n'è andato Ci sei Sei qui Oh Oh Chris Ha dato una sbotta No La gotuletta panata Sopra il termosifone Ah si Io Porco dio Scopavo le spugne Ah si Io Pugavo le spugne E ci ficcava il cazzo Dentro Porco dio Ai tempi Cozzano Non savavo più che inventacce E io Siamo andati a vedere un video Che c'era uscito Ma poi Da parte che già te conoscevamo Eravamo andati a vedere un video Di questa Che è ficca Due spugne Al contrario Quindi nel senso Devo mangiare il tacchino raga Datemi dei peppo love Dai che vado a mangiare il tacchino C'ho fame Oh Grazie magnaca Grazie Peppo love Peppo love Peppo love Non protestate Vado a mangiare il tacchino Ci vediamo domani raga dai Peppo love Peppo love Peppo love per il vostro boomer Peppo love Minchia raga Su le mani Sinti Sinto Sinto Omega Sinto 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 Omega Sinto O Sinto Ale O Sinto Ale Omega Sinto Porco dio Ma come si ficca Beh io non ho una grande esperienza con i buchi eh Aspetta L'ho infilato No? Cosa ho fatto? Mi è andato sul cazzo Porco dio Aspetta Aspetta Ah no ma sto sbagliando buco Ah no ma sto sbagliando buco Eh ho sbagliato buco Ho sbagliato buco Ho sbagliato buco Ho sbagliato buco Dio carne Aia No no che così sfondo tutto Ok lag is over lag is over I don't think I'm lagging anymore Sì E ti ha abbonato Le farò Cosa magic? Non ho capito Miau Miau Ho bisogno Carca puttana Ma ha già parlato di quello stronzo Ha già detto di fifa Figli di puttana No No Grundava Ho detto a posto Tu invece Allora zì Guarda a me A me frate A me mi è entrato il pezzo di pelle di palla là dentro Ma io ho vista spento la cosa per il dolore Ma a me c'è rimasto a me dentro Quindi ho preso Sono andato a prendere la palla L'ho cominciata a smuovere in maniera tale da farla uscire da dentro la macchinetta zì Io ho visto C'era tipo viola dentro la palla Ma io non ti ho mai raccontato la storia Qualcuno sicuramente la zama Della merda Dai amore dai Ci sono i colori Le canzoni L'arcobaleno Il mare Ma che cazzo è? Il mare Ma che cazzo è? Glitter Gli occhi giganti Non capisci Ma addio Vengono fatte cose esterne come figure eccetera Purtroppo Non posso dirle subito Non è per via dell'ego E che per ragioni contrattuali Non si possono dire certe cose Ok Io so Cosa accadrà l'anno prossimo Ma non posso dirlo Così tanto Ma così tanto Voi non capite il mio problema Big Mac menù Via Big Mac menù Big Mac menù Cibio 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 Su Globo Consegno Da qua la metteranno Chiude l'ora e tredici Beh Scrivitelo Guarda Scrivi Ti piacerà tantissimo Ma ne posso guardare uno alla volta Se mi devo guardare un'ora Mi recupererò Giorgio Però Sicuramente Mi ricorderò Che discorso Che capisco Ragazzi Leggete le scan No No Non ascoltatelo Non ascoltatelo Non ascoltatelo E' uno scherzo E' tutta la mutata Era uno scherzo Ovviamente Dai Mi fa molto piacere Che tu abbia comunque espresso Il tuo parere In libertà Sì 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 Ovviamente Ti ringraziamo Ti ringraziamo molto per questo Approfondiamo il discorso Della relazione Prima ce l'avevo Lo sliscia di troppo Secondo me Secondo me È assolutamente possibile No Sai cos'è Che Non si vede in video Perché si è Si è aperto Il baffo a sinistra Non mi ero accorto Si è aperto Il baffo Io intanto parlo Di poliamore Porca amica Miseria Baffo a simmetrico Questa non me la date di Come rendere simmetrico Il baffo Dai ti do parlo Di poliamore Io studio Guarda su futta Io ti giuro Se mai Ah ragazzi Io mai Sto in weekend league E mi trovo davanti Uno che si chiama Sinto con la squadra E quell'uomo non Si Fa autogol E lefta il game Mannaggia Alla madonna Quanto è vero Dio Levo la Sinto Levo la Sinto Ma Certo che sono molti di più Ma Comunque Comunque Siamo solo ad ottobre Deve ancora arrivare l'inverno Si certo che deve arrivare l'inverno Certo che deve arrivare l'inverno Però bellissimo E poi That's not Il mio manga preferito Probabilmente Insomma Ishi il 21 Grazie Grazie Che hai detto questo qua Su That's not Grazie Scusa Grazie Mi prendono tutti in giro Che bello Perché? Non è il miglior manga di sempre? Che bello Che bello Mi piangono Scusami Che bello Adesso mi beccherò degli insulti A sto punto Io l'ho sempre dato proprio per scontato No No Per scontatolo Davide che era il migliore Giusto? Così è Grande Ti faccio una domanda Attentissimo a come rispondi Vai Your name Che ne pensi? Molto bello Molto bello Mi è piaciuto tanto Penso abbia delle pecche Però mi è piaciuto tanto 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 Oh No Non bisogna muoversi in maniera diciamo cauta Perché se no rischi grosso Grazie a Brasciola96 A Pensatore Accademica Ah si Stefano Adesso vado a vedere Scusami Uè Matto 97 starra Ciao Sei un matto? Ma sei un matto da legare? Da legare? Oddio no 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 Come da legare? No volevo dire da legare Sì Vabbè quello Insidia Bonsoil Matto Grazie mille Grazie grazie mille Matto Per la sub Benvenuto Matto Grazie mille Matto Tutto ok Maximo Sono incinta Ma che cosa è successo? Ma che cosa è successo? Ma è partito Ma che partivano tutti i video mentre scorrevo partivano i video Ma che cosa è successo? Ma Io ho paura del mio reddit signori Ho paura di Gabbo E non me ne frega un cazzo Non so cosa stia dicendo Porco dio Magari dice cose bannabili in russo Che ne so io No 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 fazia Diremi è bravo bravo ragazzo Dima però mi sa Di toccarti contemporaneamente l'ombelico con entrambi i gomiti? Credo di sì Così? Sì 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 No 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 Perché? Perché ridete? Non l'ho capito io Ah per far vedere di più le tessere Ma perché Mary parti oltre? Perché non fai ragazzone? Perché non fai ragazzone? Perché non fai ragazzone? Perché non fai ragazzone? Ok Non c'è Sento il vicino Che si lamenta Però sti cazzi Mettiti lontano Mettiti lontano Mettiti in fondo Te lo devi fare Mettiti in fondo Mettiti in fondo Devo calmarmi Su Series X Scusa Reckless Su Series X Xbox Series X Non siamo più Nella vecchia generazione Dario Siamo nella nuova generazione Te la vuoi mettere In quella testa di cazzo Smemorato di merda Ripigliati Scio cazzo Che? Come te la porto Portate la fine Ok Ok Allora Eccoci Eh Nancy Porco Dio Guarda qua Vai giù Madonna Stai esplodendo Stai Madonna Madonna Santa Il filo del joystick Il filo del joystick Ma Come puzza Ma Dove Per me Mi sono Corto Porco Dio Fanno in corto Tutti i pc Primo Ho spezzato il cavo del joystick È andato sicuramente Ma come tu sta E guarda Il filo del joystick Eh L'ho lasciato collegato Come coglione È bollentissimo Per me Che cosa hai detto Volpescu Che cosa hai detto Volpescu Te dovevi combattere I manigoldi Delle scan E non unirti A loro Guarda cosa ho qua Guarda cosa Posseggo Tra le mie mani Le conosci bene Perché le hai utilizzate In passato Sono le pistole Allora Allora Che facciamo Ma chi è Guarda il taglio del film Il buco Su net I play Pokemon 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 Grazie a tutti.